Salve, mi chiamo Carlotta Bravi, ho 16 anni e le mie passioni sono la fotografia e le lingue orientali. Come tema della nostra ricerca, la mia compagna ed io abbiamo scelto il tema del gender pay gap, poiché essendo ragazze che entreranno nel mondo del lavoro un domani, pensiamo che sia una problematica che affronteremo. Come metodi per la ricerca abbiamo utilizzato un Google Form in forma anonima, a cui abbiamo aggiunto la possibilità di inserire sia l'età che il grado di istruzione e abbiamo approfondito la nostra ricerca attraverso delle interviste faccia a faccia. Durante lo svolgimento del lavoro mi sono sentita molto messa alla prova e delle volte in difficoltà, ma quando abbiamo concluso il progetto mi sono sentita molto soddisfatta. La cosa che mi rimarrà più impressa è sicuramente l'impegno che sia io che la mia compagna abbiamo impiegato per questo progetto e ho imparato che effettivamente la geografia non è solo parlare di montagne e mari, ma anche capire i fenomeni umani.